buongiorno amici ora passiamo a correre tutto a sport Pogba conto alla rovescia finalmente quasi certa la notizia di Pogba il francese e il Manchester United annunciano ufficialmente il divorzio per il trasferimento alla Juve mancano pochi dettagli i tifosi premono ormai soltanto una clamorosa retromarcia può far saltare il ritorno a Torino finalmente ottime notizie casa Juventus ci dovrebbe soltanto essere una firma staremo a vedere almeno così si dice di Maria gol per la Juve lezione dell'Argentina l'Italia nella finalissima di Webley apre Lautaro chiude dimana assegno anche assegno tutti quanti a un passo dei bianconeri che rubina a Londra per chiudere anche Di Maria si ha parlato tantissimo infatti ieri Di Maria grande prestazione complimenti per anche Di Maria grande prestazione anche se è stata ripeto un'Italia pessima Italia è un'altra brutta figura la lezione di Messi a zero delle illusioni si riprende Messi dopo un anno anzi dopo anni di buio e per me lo saranno sempre di buio non penso che Messi sarà continuo ieri è stato solo soltanto un caso tanto che lì di Amur e Amaro state vicini all'Italia il capitano chiude con la nazionale acquata 117 presenze è stato un viaggio bellissimo grazie di tutto grazie a te Chiello grazie a te Chiello anche Chiello ci lascia purtroppo anche Chiello ci lascia questo è il calendario degli azzurri della National League Italia Germania il 4 giugno 7 Italia Ungheria l'11 Inghilterra Italia e il 14 giochiamo in Germania Germania Italia insomma amici Pogba passiamo alla notizia sempre in tema Juventus l'ultima notizia della giornata Pogba ultimi dettagli diffusi lo aspettano saluti ufficiale con l'immagine di Juve fiduciosa solamente l'immagine di Francia può fare sempre il ritorno in bianco nero ormai Pogba siamo siamo alle porte siamo alle porte siamo alle porte e io penso che a breve tra qualche giorno sapremo una notizia più concreta del polipo Pogba ci aggiorniamo domani per ulteriori news